Allora, sono stata raggiunta da queste due bellissime persone, Nadia Meyer, ben trovata. Buongiorno Roberta. E Ivan Jastrebov. Buongiorno. Allora Nadia, lei è nel settore immobiliare. Sì, da molti anni. Ci vuole raccontare un po' di che cosa si occupa, so che è una trasmissione televisiva su Real Time. Sì, si chiama Casa Prima Vista e stiamo producendo le nuove puntate e quindi la casa rimane il cuore pulsante della vita di ognuno di noi, penso. Quindi ha veramente un valore specifico l'acquisizione di una casa e quindi io ho un senso di abnegazione totale. Mi piace seguire i miei clienti dall'inizio fino anche a dopo il rogito, se fosse necessario, nelle varie ristrutturazioni eventuali. Cosa cercano oggi le persone quando vogliono acquistare una casa? Oggi tendenzialmente, essendo stati molto chiusi con il problema del Covid, cercano innanzitutto uno spazio esterno. E quindi vogliono poter vivere gli spazi esterni, quindi o un bel terrazzo o magari un bel giardino. Quindi c'è... Più città o più, diciamo, zone, non dico periferiche però, magari limitrofe. Limitrofe, sì, perché la gente ha questa voglia di ritornare un po' a immergersi nella natura. Nella natura. Sì. Si sta riscoprendo qualcosa che ci appartiene. Sì, qualcosa che prima era sempre città, centro, e ora invece in qualche modo vogliamo anche ritrovare più noi stessi nella natura. Più ci si distacca dalla natura, però c'è qualcosa che ci attrae. È vero. Ivan, invece tu ti occupi della parte marketing? Esatto. Ok, quindi che cosa consiste il tuo lavoro? Allora, intanto, proprio in vista di questa trasmissione, abbiamo cercato di rafforzare l'immagine di Nadia e trasmettere i valori che la contraddistinguono, che sono la trasparenza, la professionalità, l'approccio anche empatico nei confronti del cliente e quindi sono tutti gli aspetti che noi cerchiamo di trasmettere e anche di far adottare ai nostri colleghi, in modo tale che il settore diventi sempre più inclusivo e ispiri più fiducia, che poi è il motore dell'economia, anche globale se vogliamo, quindi è un po' il nostro obiettivo. Perché a cussare una casa, insomma, ci metti il cuore, non dico che è per sempre, perché poi però in alcune situazioni… Tendenzialmente, insomma, diventa il business numero uno della vita di ognuno di noi, quindi veramente ci mettono il cuore. Quindi la casa rappresenta la gioia, i dolori, i sacrifici e quindi è un po' un punto di arrivo che è più grande, per i giovani che comunque… Secondo me racchiude tutte le nostre emozioni perché c'è una proiezione all'interno della casa. Assolutamente, poi spesso il punto di partenza per una famiglia, tante cose. Venendo invece a noi, ai nostri giorni, cosa pensa, parliamo un po' di crisi, quindi dell'ILVA in crisi, cosa pensa della possibile trasformazione in fabbrica di carri armati per salvare 10.000 posti di lavoro? Allora, innanzitutto il lavoro è sacro, quindi bisognerebbe veramente attivarsi per salvare il lavoro di queste persone e soprattutto delle migliaia di famiglie che ci sono alle spalle, però per un fatto etico penso che non sono d'accordo per far sì che si producano carri armati, anche perché veramente stiamo vivendo in un momento, non so neanche come esprimermi, drammatico, è un eufemismo, quindi no, troviamo un'altra soluzione. Parliamo di compagnie di bandiera, di volo appunto, cosa ne pensa? È ancora necessaria oggi? È importante per il nostro paese, per l'Italia? Secondo me sì, perché è un fatto proprio nazionale, di orgoglio, di racchiudere tante cose con la nostra bandiera. E quindi è un simbolo assolutamente, che secondo me ogni Stato deve avere la sua bandiera e la sua compagnia aerea. Certo, concordo con me, assolutamente. Forza l'Italia, sempre! Ecco, invece adesso parliamo un po' di equity crowdfunding e quella che è la raccolta collettiva proprio da parte di, nel territorio. Faccio riferimento a quello che si leggeva sui giornali proprio in questi giorni dell'Aquila Calcio, fa il passaggio, vorrebbe fare il passaggio al calcio professionistico attraverso la raccolta di denaro. Cosa ne pensate? Beh, credo che Gigi Buffon sia stato straordinario, ma ce ne dovrebbero essere molte di più di persone che si adoperano così in una città, poi come una regione come l'Aquila, che è stata così colpita drammaticamente da una situazione catastrofica. Quindi ben vengano queste figure di crowdfunding, quindi viva Gigi Buffon che ha voglia e mi auguro che molti si ispirino a lui. E poi le economie territoriali, insomma, diventano una risorsa importante anche per le aziende più piccole. Assolutamente. Quindi è d'accordo? Sì, sono d'accordo e anche qui c'è un crowdfunding, secondo me, contribuisce ulteriormente al rafforzamento della fiducia perché quando ci sono sempre più persone, diciamo, che fanno da intermediari, tra virgolette, tra le istituzioni e un cliente privato che possa essere un'impresa o addirittura il consumatore. Cioè tutti questi passaggi servono, secondo me, proprio per dare sempre più credibilità e fiducia alle persone. E riconcutiamo un po' la fiducia, perché è fondamentale. La fiducia personale. È fondamentale, perché all'inizio ci può essere mi affido e quindi la fiducia deve essere un trasporto automatico, che non sempre è facile da trovare. Quindi grazie mille. Grazie a te. Grazie a lei. Grazie a lei. Arrivederci.